512.000, questo è il numero magico che riporta l'Abruzzo oltre la soglia psicologica delle 500.000 persone occupate, soglia che dal 2008 hanno benchmark pre-crisi con i suoi 515.000 occupati non veniva superata. Se il numero assoluto è positivo, perché fa segnare più 27.000 unità rispetto al terzo trimestre del 2016, il dato non proprio esaltante arriva dalla lettura della qualità dei contratti in maggioranza a tempo determinato. Come sottolinea la CISL, il contratto stabile non sembra rientrare nei piani immediati delle aziende abruzzesi, perché solo 30 contratti su 100 saranno a tempo indeterminato. Una precarizzazione del lavoro, fenomeno per la verità non solo regionale ma globale, che indica come ci sia ancora tanta prudenza da parte delle imprese, che se da un lato cominciano a reinvestire nelle risorse umane, dall'altro manifestano incertezza nel futuro, soprattutto legata alle nuove norme di incentivazione del lavoro giovanile che il governo si appresta a mettere in campo. I dati dell'Istat relativi all'Abruzzo comunque si inseriscono nel più generale contesto di ripresa economica dell'Italia, tornata ad avere un deciso segno più sul PIL dopo anni di recessione prima e stagnazione poi. Secondo l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci, il tasso di occupazione salito al 59,2%, dato più alto degli ultimi 15 anni, unito al tasso di disoccupazione sceso al 9,7% al di sotto della media nazionale rispetto all'11,1% dello stesso periodo dell'anno scorso, con una riduzione di 1,4 punti percentuali, sono il segnale del buon lavoro del governo regionale fatto in questo campo. Paolucci sottolinea come ci si aspetti ancora un incremento occupazionale grazie al masterplan la cui piena concretizzazione conoscerà un'accelerazione decisiva nel corso del 2018 con l'apertura dei cantieri, il patto per lo sviluppo e attraverso l'ulteriore emanazione dei bandi per i fondi europei. Intanto la Giunta regionale ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 che ora verrà vagliato dal Consiglio regionale. Nello specifico per l'esercizio finanziario 2018 nel bilancio di competenza contenente i debiti e i crediti ancora non pagati o riscossi e quindi anche eventuali residui attivi o passivi si prevedono entrate ed uscite pari a 6 miliardi e 400 milioni mentre il totale generale delle entrate e della spesa del bilancio di cassa ammonta 7 miliardi e 700 milioni. Il bilancio del prossimo anno beneficerà della cosiddetta norma Abruzzo che consentirà il rientro dei debiti nell'arco di 20 anni. Grazie a tutti.